La Mediopadana rappresenta probabilmente l'opera infrastrutturale più importante della provincia di Reggio Emilia degli ultimi dieci anni. Prima di tutto la bellezza dell'opera che ci viene invitata da tantissime altre parti del mondo proprio per la bellezza dell'opera in sé e 2 la posizione ha dato una grandissima visibilità alla città di Reggio Emilia soprattutto sulla 1 e per quel traffico che è da Milano a Bologna che è il traffico di business più importante che abbiamo oggi in Italia. La Mediopadana rappresenta dal mio punto di vista un punto di partenza e un punto di arrivo, punto di partenza verso Milano, verso Bologna e verso tutto il resto d'Italia. In questi anni Reggio Emilia ha goduto sicuramente di uno sviluppo legato anche allo sviluppo di città come Milano. Io faccio sempre l'esempio che durante la Fashion Week è molto difficile trovare un hotel a Reggio Emilia e credo che lo sviluppo immobiliare di Reggio Emilia ormai sarà legato non semplicemente alla città di Reggio in sé ma anche allo sviluppo di questa metropoli che è così vicina a noi. Pensiamo che ormai da Reggio per raggiungere Milano è più breve che da Brescia per raggiungere Milano. Da questo punto di vista molti investitori stanno guardando alla nostra terra, all'Emilia che sicuramente si è avvicinata, si è avvicinata a Milano, si è avvicinata agli aeroporti ed è per questo motivo che io vedo soprattutto da Milano sempre più interesse e investimenti nella nostra regione che da un punto di vista logistica si è veramente avvicinata alla città finanziaria d'Italia. Da un punto di vista di punto di arrivo sicuramente ha dato una visibilità enorme a quello che è tutto il nostro comparto agroalimentare. La nostra Food Valley ci viene inviata in tutto il mondo come anche la Motor Valley mancava di un punto di accesso. Per me la Mediopadana rappresenta questo. Oggi turisti da tutto il mondo possono venire facilmente da tutte le parti d'Italia a visitare le eccellenze della nostra regione e la posizione logistica di Reggio Emilia nel mezzo tra Parma, Modena, Bologna ci dà un vantaggio competitivo enorme per far vedere iniziando le nostre colline tutto quello che è di bello ad offrire la nostra regione. Pensiamo che ci sono brand dell'Emilia del Food che sono conosciuti in tutto il mondo come il parmigiano e il reggiano, il prosciutto di Parma, l'aceto balsamico di Modena e di Reggio Emilia. Ecco la Mediopadana ci permette di essere una vetrina per tutti questi prodotti, per tutto quel mondo che passando vuole fare un'esperienza nella Food Valley. Se pensiamo per esempio ai nostri appennini, i nostri appennini sono tra i più belli ma anche tra i meno conosciuti sia dagli italiani ma anche dagli stranieri. Ecco la Mediopadana ha permesso a molte persone di iniziare a scoprire di nuovo i nostri appennini e io credo che un buon lavoro di marketing e utilizzando la Mediopadana come vetrina per questo territorio nei prossimi anni potremo vedere un grandissimo sviluppo turistico di cui ancora l'Emilia non ha goduto pienamente, stendo ancora indietro rispetto a alcune regioni molto vicine come per esempio la Toscana. Quindi gli ultimi dieci anni della Mediopadana io ne do un risultato sicuramente positivo ma credo che ancora il meglio debba ancora venire per le potenzialità che la Mediopadana porta al nostro territorio.